salve a tutti ragazzi sono ricky e oggi come vedete siamo su minecraft e oggi vorrei fare un tour della mia casa. Iniziamo per uccidere questo scheletro. Come vedete abbiamo il mio piccolo ficello, il mio portale per l'inferno. Qui si è formato a causa della towncraft, è uscito tutto il liquido di bis, qui c'era un lago di lava che è stato prosciugato dalla pompa, che mi ha riempito dei vari tank, se ci fa un creeper là sopra, no, come vedete mi ha riempito i vari tank, ora ho un scheletro, scusate eh, muori, ok è morto, dove appunto il creeper è lì, lasciamolo lì, bene ora entriamo, un creeper, esplodi, esplodi, non esplodi, animale, vediamo se riusciamo a entrare, ok, uno scheletro in casa, ahia, bene come vedete qui abbiamo una specie di libreria, dove abbiamo le questions che servono per fare le pergamene, abbiamo varie ceste, qui, per questo logistic pipe, con le cose craftate, che va sotto, abbiamo le ceste delle pergamene non fatte, fatte, e tutte le teorie che non riesco ancora a fare, proviamo la towncraft, la crafting table, gli oggetti attentati, come vedete, due infuse, un cristalizzer, un dark infuser, oh, ne ho fatto questo, perfetto, un dark infuser, un alloy fornos e le vari iron fornos, abbiamo qui queste cose, che si trovano dentro le ceste vicine ai dungeon, queste ne sono altre cose mie, poi saliamo sopra, troviamo dmfe, non sono ancora cari, dei generatori, dei maceratori, degli struttori, abbiamo red matter fornos, dark matter, il carbone, poi sopra, dovete vedere cosa c'è, devo mettere la scala, poi abbiamo dei relay, ci stanno caricando le omega, le ceste, andiamo avanti, vediamo se riusciamo a salire sopra, ok, come vedete sopravviene i pannelli solari, adesso ora scendiamo, prima di nuovo gruppo, scendiamo, qui abbiamo un crucible of ice, dei vari avis tank, e i tubi dei avis, perché conducono i vari infuser, dark infuser cristalizzer, qui abbiamo una stanza vuota, che non so ancora bene cosa fare, qui abbiamo la stanza del logistic, qui abbiamo un generatore, attaccato dalle fornaci, e a un compressore, che sono collegati con il magic pipe, qui abbiamo l'automatic crafting table, anche loro collegati, questo qui fa il machine block, questo elettronic circuit, cult, mixer metal, i vari ingranaggi, bronzo, stone slab, bank module, gold nugget, clowstone, crafting table, automatic craft, e qui abbiamo le varie ceste dentro varie cose, cristalli, questi oggetti che si trovano dentro le ceste sempre, vicino ai dungeon, e i vari attrezzi che ho fatto, bene, il tour della casa è finito, per questo video è tutto, vi saluto, un saluto da Ricky Trick. Grazie a tutti.